In una città isola chiamata Metru Nui, circondata dal mistero, minacciata dalle tenebre, la fiaccola del potere sarà trasmissa ad una nuova generazione di eroi. Ognuno di loro possiede la tessera di un puzzle che può svelare i segreti. Di un potere illimitato. Ma se le forze del male combattono per separarli, la loro unica speranza è rimanere uniti. La battaglia finale per Metru Nui. Ogni leggenda ha un inizio. Bionicle 2, le leggende di Metru Nui. Individi e videocassetta.